273 giorni, quasi nove mesi dopo la finale play-off del maggio scorso. La storia è sempre quella, Trastevere e San Benedettese si ritrovano al Trastevere Stadium. Ma se gli Amaranto devono solo ritrovare un po' d'amor proprio, come detto da Mr. Cioci, i Rosso-Blu devono affrontare un momento tormentato ed enigmatico, soprattutto lontano dal rettangolo verde. Romana, Crescenzo, Tortolano scusate, di tacco, poi di sinistro, con lo scambio, scarica fuori da Laurenzi, Massimo, palla possibile sul secondo palo, invece scelto Alonzi, che rimette dentro di prima col sinistro, Crescenzo! La solita coppia, sempre loro, Alonzi per Crescenzo, 10-10, 1-0 Trastevere. Tunato il 5 e poi con l'esterno vada Alonzi, deve gestire con l'uomo addosso, palla a Tortolano, scocchiaiata e al bar Zaffagnini, può correre il 10, dentro Crescenzo, dall'altra parte Baldari, può anche tirare il 10, palla scaricata per Alonzi, Murato. Crescenzo la sposta sul mancino, riporta sul destro, favoco su di lui, 8-8, finta e controfinta, si fa aiutare ancora dal suo compagno d'avventure, Alonzi, palla che arriva a Crescenzo! Ancora doppietta, ancora l'8, segna, sempre lui, assist di Alonzi, anche stavolta, 2-0 Trastevere, devastanti! Laurenzi, Misacciacci gli chiede di non commettere fallo, così è, ma la palla ce l'hanno i bianchi. Alboni, Laurenzi torna lì, palla scaricata a destra su Cardella, che gestisce tutto col sinistro, palla che arriva a centro area, non arriva invece Torromino, 2 in barriera per Alessandri, sono Baldari e Tortolano ad allungare la barriera stessa, c'è Torromino, Angiulli con la palla docile, in mezzo all'area, palla sporcata, il gol di Zaffagnini, 2-1 Samb, dimezzato lo svantaggio, si riapre la partita. Lì vicino a Massimo ci sarebbe Tortolano, ma la palla probabilmente sarà in mezzo, invece no, scucchiaiata per Tortolano, che rimette per Alonzi, devia ma non abbastanza da battere i mazzi, che poi con i pugni allontana. Zaffagnini, Marras, spazio per distendersi per gli ospiti, prende campo il venti, che scarica a destra, Lulli sottoporta, Giordani la tiene, e invece no, autogol di Giordani, è appareggiato la San Benedettese, 2-2. Eccolo Bertoldi, palla tesa per Breatico, sulla traversa si stampa, poi il mancino di Alonzi, fuori, con un accenno di pressing della Samb, il Trastevere che risale il campo, ma serve l'ultima parte per far male agli ospiti, Breatico, Colpetto, Crescenzo, Bertoldi, ancora Crescenzo, di nuovo da Bertoldi, dentro l'area di rigore, mette forte al centro, giù Alonzi, non c'è niente, nessuno devia. Quindi Crescenzo, squadra è spaccata in due, la Samba è tutta dietro, a parte tre giocatori offensivi, Bertoldi mette il mirino a centrale, la palla arriva per Crescenzo che tocca, Poi Liburdi col sinistro, Alonzi sottoporta, il gol del 9, 11 anche per lui, il Trastevere, proprio nel recupero, se la porta nuovamente dalla sua parte, 3-2. Cardella, forse fallo, giù Massimo, anzi Laurenzi, e finisce qui, il triplice fischio dell'arbitro, col Trastevere che da squadra vince questa partita, due gol di Crescenzo nel primo tempo, poi ripresa dalla Samba, la squadra di Cioci, ma il gol di Alonzi porta i tre punti ancora dalla parte del Trastevere.